che fa? mi dai le spalle a fe a fe mi avvicino sei proprio goffo oh ce sta a capire non ce sta a capire in cazzo guarda questo è HD non è bassa risoluzione ma è l'altro giorno è scattata? della si e da qua? non la fai vabbè faccio scattare io leveti leveti è scattata? si a produrio è buon la regia è scattata è buon la regia